Salve a tutti, oggi faremo l'unboxing dell'estruttore di frutta della linea Just Kitchen della Mako. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, un libretto delle istruzioni. Piuttosto esotivo, mi sembra. Ah, ci sono anche delle ricette, dei consigli su come estrarre frutta, succo dalla frutta della verdura. Lo smontaggio della pulizia, va bene. Ok. Eccolo. Eccolo, bro, troppo. Non si scemmo, bro. 35 anni... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questo è per l'insedimento della frutta della verdura. La macina, un altro contenitore, lo spazzolino per pulire le parti meccaniche della frutta della verdura e il motore. Ecco. Questo è il tappino per evitare che quando viene levato il contenitore coli succo. Proviamo. È piuttosto pesante. Pulsanti di on, off o della marcia. E questi sono i pezzi. Ecco qua. Bene. Mi sembra che ci sia tutto. Seguirà un video in cui vedere cosa ci si può fare con questa frutta, con questo, con estrattura di frutta. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao.